Provvidenziare la segnalazione telefonica alla guardia costera di una saccense che, trovandosi spiaggia a Capo San Marco, ha scovato una tartaruga caretta caretta arenata sugli scogli, ferita, in difficoltà, che non riusciva a liberarsi da corde e lense da pesca attorcigliate attorno alle pinne anteriori. Contattato il personale della Capitaneria, l'intervento è stato tempestivo. L'esemplare è stato immediatamente trasportato all'ufficio circondariale marittimo di Sciacca e successivamente affidato alle cure della squadra del dottor Gerlando Gallea dell'Associazione WWF di Torre Salsa. Considerando l'importanza di tutelare una specie a rischio di estinzione, sia la Capitaneria sia il WWF collaboreranno per restituire la caretta caretta al suo ambiente naturale. L'ufficio circondariale marittimo di Sciacca tiene a ringraziare ancora una volta quei cittadini che prontamente segnalano episodi del genere o irregolarità. Grazie alla loro collaborazione è possibile intervenire tempestivamente e salvaguardare in tal modo l'ambiente e le creature di vitale importanza per gli equilibri del mare. Tante attività in tal senso sono state incrementate negli ultimi anni da associazioni ambientaliste al fine di sensibilizzare i singoli cittadini a rispettare la natura, a segnalare ritrovamenti e a denunciare comportamenti scorretti. Iniziative che quindi educano la popolazione e portano ad importanti risultati. Grazie. 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 Grazie.